Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Guadagnare Online con le criptovalute. Questa sera andremo a vedere come ho guadagnato 1600 satoshi in soli 10 minuti, ma prima vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornato con tutte le novità che andrò a pubblicare quotidianamente. Iscrivetevi al canale Telegram sul quale avrete tutte le informazioni veloci, i vari scam, i vari airdrop e via dicendo. Ma adesso vi faccio subito vedere come ho guadagnato in 10 minuti questi 1600 satoshi. Il filmato sarà velocizzato, dopodiché vi spiegherò esattamente come dovete fare. Ci vediamo tra poco. Grazie. 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 Bene, rieccoci qua. Cosa ne pensate? L'avete trovato interessante? Bene, allora rimanete incollati alla sedia perché vi spiego esattamente cosa dovete fare. Allora, innanzitutto dobbiamo cliccare su questo pulsantino qui che ci porta al mio sito web. andate nella sezione bot e script ci si aprirà questa pagina con tutti i vari bot e le varie spiegazioni video accanto noi andiamo a cercarci Lucky Games e cominciamo con la registrazione quindi clicchiamo su questo pulsante qui ci si apre questa pagina dove risolviamo il captcha e clicchiamo su continua attendiamo 8 secondi fino a quando non ci spunta il pulsante Get Link eccolo qua benissimo siamo arrivati sul sito praticamente dovete fare l'iscrizione quindi dovete cliccare su Create an Account qua mettete il vostro username poi risolvete il captcha e cliccate su Submit Registration bene adesso ci ha riconosciuto il nostro username dobbiamo andare su Set Password mettiamo la password che abbiamo scelto clicchiamo su Set Password dopodiché andiamo su Set Email e inseriamo appunto anche il nostro indirizzo email dopodiché facciamo appunto il login quindi clicco su Login to Account risolvo il captcha e dentro dentro benissimo ha riconosciuto il mio account come vedete ho 20.000 satoshi sul mio account che cosa ho fatto? sono andato a depositare vediamo transaction allora ho depositato 0,005 Ethereum in Ethereum perché praticamente non ci sono le commissioni per la transazione dopodiché ho fatto uno scambio da Ethereum a Bitcoin e ho appunto depositato 11.744 satoshi che andiamo a vedere quanto valgono 11.700 però prima dovevo mettere gli zeri 1, 2, 3 praticamente ho depositato 1,10 euro come vedete qua ho perso la finestra eccola qua 1,10 euro sono andato praticamente a giocare e sono arrivato appunto a 20.000 quindi ho praticamente raddoppiato il mio deposito in pochi minuti allora vi faccio vedere come fare allora dobbiamo tornare sul mio sito per scaricare il bot quindi basta cliccare qui risolviamo il captcha clicchiamo su get link e facciamo download quindi scarichiamo questo file ok il file è stato scaricato è un file di testo semplicemente dobbiamo andare a incollarci a copiare scusate tutto questo script ok lo copio ritorno ritorno sulla pagina di Lucky Games clicco col tasto destro e seleziono ispeziona dopodichè vado su console clicco questo pulsante qui e cancello tutto clicco col pulsante sinistro e poi vado a incollare lo script che appunto ho copiato in precedenza dopodichè schiaccio invio adesso mi si è aperto il bot come vedete qua questa pagina possiamo anche chiuderla questa volta vado a impostare una base di scommessa di due satoshi e poi vado a cliccare su play come vedete il bot parte stiamo già accumulando dei satoshi siamo arrivati a 30 40 piano 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 continua a salire come vedete anche la percentuale qua a fianco aumenta e rimaniamo in attesa appunto di vedere il lavoro del bot che come vedete ci sta già rendendo un po' di satoshi in soli 38 secondi vediamo attendiamo un minuto vediamo quanto ho racimolato in un minuto con questo sistema stoppiamo ho racimolato in un minuto 329 satoshi adesso ditemi voi quale altro faucet ci rende così tanto allora per fare il deposito basta cliccare su questo pulsante qui copiare questo indirizzo di bitcoin e appunto su questo indirizzo dobbiamo fare il nostro deposito come vedete io ho fatto un deposito da un euro quindi non servono cifre consistenti benissimo se il video vi è piaciuto lasciate un like mi raccomando iscrivetevi ai canali youtube e canale telegram noi ci rivediamo alla prossima vi auguro una buona serata ciao a tutti 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 ciao a tutti